67, 68 67, 68 Fatissimo, preoccupato Allora ragazzi, gli altri nomi? Paolo, per mia madre Per i posti li lascio tutta Per i posti Io lascio tutto a Claudio Vecino Viene Chi si vede là? Mi informo bene Che l'assigno mi fa Ti sale? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.